Buongiorno a tutti e ben ritrovati alla quotidiana Rassegna Stampa in notizie di Borsa. Avrete notato che per qualche giorno non sono andato in onda, ma se seguite la pagina Facebook Società e Assemblea degli Azionisti avrete già saputo che a giorni la Rassegna Quotidiana farà un grande salto di qualità. Ciò non di meno, non perdiamo altro tempo in quanto il fine settimana è stato densissimo di notizie. Iniziamo subito con i personaggi. Doppia notizia riguardante Benetton. Da un lato apprendiamo che Enrico Laghi è divenuto il nuovo presidente di edizione la holding della famiglia Benetton, sostituendo lo storico manager Mion. Dall'altro riguardo autostrade pare che siano stati accettati formalmente tutti gli atti proposti dal governo. Doppia notizia anche riguardo John Elkan. Da un lato i sindacati degli edicolanti hanno mal digerito le frasi dette dall'imprenditore al master dell'Università di Torino, con le quali caldeggiava le nuove strategie dell'informazione. Dall'altro parrebbe che veda con favore l'acquisizione da parte di Buzzfeed, del Love Post. Gli edicolanti e Buzzfeed forse non hanno chiaro oppure ce l'hanno chiarissimo, ma non vogliono esprimersi su quali siano le ipotetiche volontà del giovane Elkan, su cui quotidianamente fioccano news su una possibile espansione del suo impero a 360 gradi. Ma non abbiamo finito con i personaggi. Mustier, amministratore delegato di Unicredit, è stata archiviata la sua posizione sul crack all'Italia. Piccola news, simpatica, prima di passare altro, BNL ed IF Italia stringono un accordo di collaborazione con il noto marchio gastronomico Nonnonanni, per offrire supporto finanziario alla filiera degli allevatori. Notizia più tecnica, passiamo a Carige. I titolari delle azioni risparmio potranno convertirle in nuove ordinarie con rapporto di 20.500 dal 23 sino al 4 dicembre. Sugli energetici, doppia news anche su Enel X. Da un lato, insieme a grandi società come Tesla e altre 26, punta a trasformare il mercato americano entro il 2030, puntando al 100% di vendite ai veicoli elettrici. Dall'altro è stata inaugurata la prima filiale cinese a Shanghai. Passiamo ai bancari, il Ministero dell'Economia avrebbe scelto Bank of America e Orrick come consulenti finanziari e legali per la privatizzazione del Monte dei Paschi di Siena. 5 Stelle e sindacati già hanno espresso parere contrario, volendo che l'istituto resti statale. Prove di matrimonio poi fra BPR e Banco BPM a fronte di un'intervista al Sole 24 Ore di Cimbri, amministratore di Unipol. Mediobanca invece ha preso in esame l'impatto del Covid sui bilanci dei primi nove mesi e ha concluso che da gennaio a settembre il fatturato dei colossi industriali è in contrazione al 4,3% sul corrispondente. Concludiamo con la mia amatissima Mondo TV, che è stata nominata come rappresentante in Spagna e Portogallo del brand Fat Candy. A domani per una nuova rassegna stampa e buona giornata a tutti.